buongiorno a tutti vi mostrerò un effetto matrix utilizzando due sole carte due carte tre monetine mani pulite carte pulite niente in questa mano niente dietro le carte e anche niente in questa mano qua bella pulita eppure basterà mettere una carta da questa parte e una carta invece sopra le monetine di destra niente di più facile che prendo una monetina da qua e trasferirla dall'altra parte in effetti basterà togliere le carte niente attaccato sotto niente attaccato sopra una monetina si è semplicemente trasferita da una parte all'altra vediamo un po di continuare il gioco allora abbiamo una monetina due monetine e due carte una viene messa a sinistra una viene messa sopra le monetine di destra prendiamo il solito nostro monetina la trasferiamo di là e come per magia voilà una da una parte e due dall'altra niente nelle mani niente sotto le carte eppure possiamo fare ancora il gioco anche per l'ultima delle monetine basterà prendere la carta di sinistra posarla sopra le due quella di destra invece posarla sopra la monetina singola che è rimasta da sola lo facciamo molto lentamente molto lentamente si vede ancora uno spicchietto è ancora più interno ancora più sotto fino a che basta poco per far sparire anche l'ultima moneta